ed ecco qua un altro video io sono Issam e oggi vediamo un mini computer con performance impressionante e un prezzo a dir poco incredibile per quello che offre devo dire che non mi aspettavo assolutamente la performance ti faccio notare che questo computer ci sta nel palmo della mia mano non solo è equipaggiato di un sacco di porte che non sono solamente tante porte ma sono anche super porte questo video è in collaborazione con cdkeyoffer.com cdkeyoffer è il paradiso dei codici a prezzi stracciati per software giochi e addirittura sistemi operativi da usare su steam origin youplay playstation e anche pc usa il codice Issam per stracciare ancora di più il prezzo e prendere a due soldi fifa 21 horizon fortnite mortal kombat microsoft windows 10 pro microsoft office e tanti altri come si fa molto semplice registrati cerca quello che ti serve usa il codice sconto e paga con carta di credito paypal o addirittura bitcoin usa il codice di attivazione che trovi nella tua area personale per software che hai scelto esattamente come ho fatto io con il mio nuovo windows 10 pro molto semplicemente incollandola nell'apposito spazio per l'attivazione o cambio licenza certamente il geek com a 5 avendo un processore amd ryzen 7 5800 h con 8 core 16 thread e 16 megabyte di cache con una frequenza base di 3.2 gigahertz che arriva a 4.4 gigahertz in modalità turbo mi aspettavo un mini workstation dove potresti fare tutto quello che vuoi ma la cosa che non mi aspettavo assolutamente poter montare un video con due tracce in 4k senza assolutamente nessun ritardo nessun problema come se fosse il mio grande workstation non solo non mi aspettavo anche la performance nei videogiochi anche se questo computer non è fatto per videogiochi perché la scheda video integrata d'altra parte in questo video vedremo anche la sua performance nei videogiochi che è davvero sorprendente e direi che dopo la mia intensa esperienza con questo computer a 360 gradi se stai cercando un mini computer performante e 429 euro senza il coupon sconto che poi ti lascio nella descrizione del video rientra nel tuo budget questo mini pc e un best buy nella scatola del geek com a 5 abbiamo l'alimentatore da 19 volt 6,32 ampere 120 watt con connettore dc 5.5 2.1 il cavo di alimentazione dell'alimentatore un cavo hdmi hdmi una lettera di ringraziamento con tutti i contatti per l'assistenza tecnica una base di montaggio eventualmente se non vuoi mettere il mini computer sul tavolo ma vuoi appendolo sul muro direttamente anche dietro al monitor o dietro a un televisore e le viti che ti servono eventualmente per montarlo all'interno della scatola abbiamo anche il manuale di istruzione in tutte le lingue compresa la lingua italiana dove ti spiega eventualmente come cambiare rami installare all'interno altri ssd o come montarlo sul retro di un monitor sulla parte frontale abbiamo il bottone fisico di accensione abbiamo il jack da tre e mezzo per le cuffie non abbiamo nessuna entrata microfono quindi eventualmente dovresti utilizzare un microfono via usb o via bluetooth abbiamo due porte usb 3.2 di seconda generazione delle quali una è segnalata come uscita pd power delivery in realtà l'ho provata non fa nessun fast charge ho cercato anche all'interno se ci fossero dei software per attivare questa funzione non l'ho trovata beh se lo sai come si attiva eventualmente fammelo sapere d'altra parte sulla parte posteriore abbiamo tutte queste porte delle quali abbiamo due porte usb c che si queste fanno anche da power delivery per un fast charge eventualmente del cellulare o il tablet o qualcosa altro quindi fanno anche da alimentazione inoltre queste due porte fanno da display port e questo display port si può collegare a un monitor con una risoluzione fino a 8k 30 frame al secondo per tutte e due mentre queste due porte hdmi sotto supportano fino a 4k 60 frame al secondo quindi in totale questo mini computer che ci sta nel palmo della mia mano supporta il collegamento fino a quattro monitor dei quali due in 8k qui abbiamo un'ulteriore porta usb a sempre 3.2 generazione 2 uguale a questa qui frontale e per ultimo abbiamo una porta usb a di tipo 2 per collegare eventualmente mouse o tastiera abbiamo anche un connettore rj 45 per un cavo di rete con velocità massima di 2.0 giga al secondo questa è la porta di alimentazione dc 5.5 2.1 a 19 volt che abbiamo visto sull'alimentatore e non è finita qui perché qui abbiamo anche uno slot sd che verrebbe molto comodo per scaricare per esempio fotografie o video direttamente sul computer da una telecamera sulla parte sinistra abbiamo l'aggancio per bloccare eventualmente il computer se è in esposizione lateralmente abbiamo i fori d'entrata dell'aria che esce tramite la ventola interna che adesso andremo a vedere appena lo smontiamo smontare il mini pc è molto semplice basta svitare le viti all'interno dei piedini in gomma di fissaggio come puoi notare qui abbiamo un cavetto sata per fissare una ssd o hard disk sata da due e mezzo qua abbiamo un dissipatore con un thermal pad per dissipare il calore della memoria interna da 512 giga m2 nvmi della lexar ed è 2280 eventualmente se volessi rimpiazzarla potresti rimpiazzarla fino a 2 tera questa memoria è collegata via pci express 3x2 sotto la memoria nvmi troviamo qui la scheda wifi 6ax questa scheda fa anche da bluetooth 5.2 infatti qui abbiamo due antenne che vanno qui sopra per una ricezione migliore e questo computer supporta una capacità massima per un totale di 4 tera compresa quest'altra porta pci express sempre 3x4 come vedi la dimensione della memoria da questa parte è 2280 mentre questa più corta ed è 2242 eventualmente se volessi comprare una memoria da mettere su questa porta e questo computer arriva con due banchi da 16 giga all'uno con una frequenza di 3200 megahertz eventualmente se volessi fare un upgrade questo computer supporta fino a 64 giga ovviamente per una migliore performance divisi in 32 32 su entrambi i banchi la ventola si trova nella parte superiore del computer sotto all'elettronica e quindi sopra al processore ed è una ventola a turbina funziona molto bene come rumorosità massima molto simile a un computer portatile che sicuramente non sentirai più se monti questo mini pc dietro a un monitor o lo metti sotto al tavolo il geekom a5 arriva con windows 11 pro già installato da configurare la configurazione comprende anche la lingua italiana direttamente durante la prima inizializzazione la cosa che mi piace nei mini pc della geekom è che un'azienda non recente quindi ha un po di anni alle spalle perché dico questo perché non è come alcune aziende che trovi un computer wow però poi dopo un anno due quando avrai bisogno di reinstallare il computer non trovi più i driver qua abbiamo tutti i driver di tutti i computer che hanno prodotto quindi eventualmente se dovessi aver bisogno dei driver ecco li puoi trovare naturalmente come al solito ti lascio tutti i link anche ai driver nella descrizione del video andiamo adesso a vedere la velocità di lettura scrittura sequenziale della lexar che abbiamo appena visto come vedi abbiamo i valori massimi che sopporta la porta pci express 3x4 quindi anche se dovessi mettere e sostituire la ssd con una della samsung molto più veloce compatibile per esempio con pci express 4 non avrai purtroppo la velocità massima di 64 giga al secondo e questo a causa della pci express che ti farà d'accollo di bottiglia ma com'è questa velocità devo dire che già questa velocità di lettura e scrittura sequenziale è pazzesca se non la confronti con l'ultima tecnologia pci express 4 ad altra parte comunque una memoria della samsung ssd nvmi di quelle più veloci costerebbe quasi quanto questo computer e dall'altro pratico questa velocità di lettura e scrittura ti servirà solamente se sei super pro e quindi in casi molto particolari la scheda video integrata è la md radeon vega 8 devo dire che ovviamente una scheda video integrata non ha assolutamente una performance comparabile con una scheda video a parte però questo processore essendo molto potente compensa tantissimo questa mancanza infatti mi ha sorpreso tantissimo durante il montaggio video infatti il video scorreva benissimo tutto il tempo con due schermate aperto con la massima risoluzione non a mezza risoluzione come faccio di solito con altri computer anche più grossi davvero pazzesco questo questo processore anche perché se monti video con premier pro purtroppo al contrario di quello che si pensa la scheda video si utilizza molto meno di quello che pensi e la maggior parte delle volte premier pro utilizza il processore a meno che non stia utilizzando after effects allora ti serve una scheda potente quindi con un processore del genere è davvero pazzesco quanto piccolo può essere il tuo computer e montare video tranquillamente fluidamente in 4k con due tracce insieme lo stesso vale per autodesk fusion 360 anche con oggetti molto complicati non ho trovato assolutamente nessun problema anche se il programma in realtà mi ha avvisato che il rendering potrebbe durare tanto ma io sinceramente per quello che faccio con autodesk fusion 360 per stampa 3d o altro è davvero sufficiente un computer del genere ovviamente non ne parliamo di word excel queste cose cavolate o anche il browser puoi aprire quante pagine voi senza assolutamente nessun problema con 32 giga ddr4 non sono ddr5 ma comunque sono più che sufficienti a 3200 megahertz come giochi ho provato due giochi call of duty e bim ng per due motivazioni perché bim ng è molto pesante per la scheda grafica infatti la scheda grafica è arrivata a una temperatura molto molto alta d'altra parte come puoi notare dalle statistiche sullo schermo il gioco stava utilizzando molto poco il processore il processore aveva potenza a sufficienza per gestire la fisica del gioco d'altra parte ho dovuto abbassare un pochino la grafica e questo perché non abbiamo una scheda grafica a parte e dopo un po la scheda grafica integrata fa da collo di bottiglia ma come alla fine il gioco devo dire che nonostante questo è giocabile tranquillamente se non pretendi avere una super risoluzione di 4k 8k su uno schermo mega ecco questo computer va benissimo anche per un gioco così pesante per la scheda video per quanto riguarda call of duty lì la situazione è migliorata tantissimo come vedi abbiamo degli fps alti alti per questo computer ovviamente è giocabile tranquillamente con una buona risoluzione con delle impostazioni grafiche adatte a un computer e uno schermo diciamo a 1080p giocabile assolutamente e come vedi abbiamo la stessa situazione il processore più che sufficiente e il gioco lo utilizza anche poco d'altra parte la scheda grafica anche lì si arrangia benissimo la temperatura è molto più bassa rispetto a quando ho provato il beam ng d'altra parte comunque una temperatura alta sia del processore e specialmente della scheda grafica e specialmente durante il gioco con beam ng una cosa che mi ha impressionato parecchio è la velocità di rendering con premier pro di un video sempre con due tracce in 4k a 30 frame al secondo che li ha mescolati insieme come come vedi anche anche l'output è in 4k a 30 frame al secondo a 80 mega di bit rate e un minuto di video ci ha impiegato meno di un minuto per fare il rendering non solo come vedi qua dalle statistiche sullo schermo si è usato un pochino la scheda grafica e molto di più il processore ma comunque non impegna totalmente il processore processore ha una potenza una banda più che sufficiente anche per renderizzare due video contemporaneamente una cosa che mi è piaciuta parecchio è il bios totalmente sbloccato dove potresti giocare con la configurazione come vuoi come configurazione di default il ppc adjustment come p state è messo a zero quindi con la potenza massima ed efficienza minima eventualmente se vuoi averlo più silenzioso perché lo stai utilizzando per word excel o per lavoro come workstation però non per fare rendering o utilizzarlo per applicazioni pesanti ecco potresti metterlo su p state 1 o addirittura su p state 2 dove hai la massima efficienza ti faccio vedere una scarrellata un po sulle impostazioni eventualmente se sei interessato e sono sicuro che se sei esperto ti piacerà un sacco perché hai tutte le impostazioni come ho detto sbloccate quindi puoi overclockare eventualmente sia la ram che il processore o cambiare le impostazioni o per esempio tenere le porte usb accesi anche se il computer spento eventualmente per ricaricare i tuoi dispositivi direttamente dal computer che ha una dimensione sinceramente come un caricabatterie multiporte non solo abbiamo anche l'opzione che troviamo anche in altri computer ma è molto importante specialmente per me che ci sia questa opzione qua dove puoi configurare il computer eventualmente se dovesse andare via la corrente e ritornare che cosa deve fare quindi rimanere spento o accendersi in automatico quando torna la corrente che rimane molto utile se colleghi la limitazione per esempio a una presa compatibile con alexa per accendere il computer da remoto direttamente a proposito per entrare nel bios funziona solamente il tasto esc certamente se il tuo obiettivo è il gaming in realtà un mini pc non va assolutamente bene per te neanche un laptop e sicuramente con 200 o 300 euro in più rispetto al costo di questo avresti un buon computer da gaming d'altra parte per tutte le persone che non hanno quell'obiettivo questo sicuramente è un best buy non solamente per il prezzo e la dimensione ma soprattutto per la performance che è sorprendente e sono sicuro al 100% che ti spiazzerà come l'ha fatto con me come al solito ti lascio il link e coupon sconto nella descrizione del video se me lo concede il produttore speriamo e se non sai dove controllare nella descrizione del video vai direttamente su www.sindromedashopping.com se hai delle domande lasciale giù nello spazio commenti ti rispondo appena possibile e ciao alla prossima